Capitano Conte incontra il Presidente Francesco Scrittulli, il Presidente della Provincia di Bari. Presidente, intanto vorremmo un suo augurio per la nascita di questo nuovo sito a difesa delle famiglie e dei bambini. Uno dei valori principali per quanto riguarda questa amministrazione è il rilucidare, rivisitare il valore fondante che è quello legato alla persona, il valore della persona e il valore della famiglia. È il nucleo essenziale di una società, è un nucleo essenziale sociale che debba poi poter portare una migliore visione del mondo. Abbiamo bisogno di questo supporto valorizzando anche i principi cristiani. Presidente, noi stiamo ricevendo un sacco di lamentele, di consigli, di suggerimenti. Noi saremo cattivissime, staremo a controllare, faremo i controllori del vostro operato in merito a quelle che sono le proposte per le famiglie. Ci dovete controllare e nello stesso tempo anche aiutare sapendo qual è la situazione nella quale viviamo. E quando meno ve lo aspettate noi staremo col fiato sul collo. Certamente sì, è questo che ho chiesto sin da quando mi sono insediato.